amici continua il nostro viaggio nelle favole da incubo questa volta ci occupiamo di un'altra vicenda di cui mi sono occupata in prima persona in qualità di consulente tecnico e mi riferisco chiaramente al bruttale omicidio di Elena Ceste 37 anni all'epoca dei fatti ucciso dal marito Michele Buoninconti che sta scontando una condanna definitiva a 30 anni di reclusione a Costitore d'Asti il 24 gennaio del 2014 anche questa è una favola che va raccontata una di quelle favole che chiaramente terminano nella maniera peggiore possibile proprio perché sono vicende che possono insegnare qualcosa ancora oggi e soprattutto possono essere utili testimonianze perché si trova a vivere storie drammaticamente simile a quelle che raccontiamo e che magari proprio in virtù di questo tipo di racconto può trovare lo spunto per mettere in discussione questo tipo di storie e magari riuscire a liberarsene purtroppo Elena non c'è riuscita e ha pagato con la vita la serrata sede di controllo e potere di Michele Buoninconti. Prima di iniziare questa insomma questa nuova favola da incubo vorrei invitare tutti voi a continuare a seguirmi sia sul canale youtube Roberta Bruzzone psicologo e criminologa e sulla pagina facebook pubblica Roberta Bruzzone psicologo e criminologa perché ripeto troverete via via sempre più aggiornamenti sia sulla cronaca attuale che sulle vicende che in questi anni effettivamente ci hanno colpito e che racconto alla luce di quelle che sono chiaramente delle riflessioni di tipo tecnico che possono essere interessanti soprattutto per coloro che si trovano in situazioni per alcuni versi simili. Noi nel testo favole da incubo da cui chiaramente tratto questo capitolo la storia di Elena l'abbiamo intitolata ogni storia ha una connotazione in qualche modo legata alle favole più più note insomma più conosciuta a livello internazionale e quella di Elena l'abbiamo accostata naturalmente alla favola della sirenetta che voleva andare in bicicletta perché effettivamente Elena paga un prezzo altissimo per aver semplicemente cominciato ad affacciarsi a un mondo esterno a quello della famiglia e Michele buoni inconti per questa cosa chiaramente non l'ha perdonata e l'ha punita nella maniera peggiore possibile peraltro la storia di Elena e Michele è una storia fortemente caratterizzata dal punto di vista degli stereotipi di genere quindi anche questa è un'occasione per tornare a parlarne e tornare anche ad affrontare questi temi. Il primo amore corri corri grida Elena al padre che la accompagna alla fermata dell'autobus la macchina non si è ancora completamente fermata che lei ha già aperto la portiera e scende felice verso l'autobus che sta arrivando qualche passo veloce il pericolo di dover attendere la prossima corsa è scampato le porte si aprono e le sale un po rossa in volto Michele l'autista la saluta con quel sorriso dolce con quegli occhi che a Elena devono sembrare così magnetici e lei ricambia quasi sussurrando è innamorata prende anche le linee che non la portano da nessuna parte pur di incontrare Michele pur di stare con lui il tempo di una corsa di scambiare qualche parola alla fermata perché quell'uomo all'apparenza timide e gentile l'ha conquistata perché alle donne come Elena per la prima volta davvero innamorata basta proprio poco per alimentare il sogno romantico di una vita insieme qualche gentilezza uno sguardo complice il gioco è fatto a Elena bastano anche le briciole e Michele con ogni probabilità l'ha già capito si è accorto molto presto che quella ragazzina timida gentile pende letteralmente dalle sue labbra lei si mette in piedi vicino al posto di guida l'osserva andallo specchietto in maniera furtiva non è affatto sicura di piacergli e misura ogni istante in cui la guarda quando lui alza lo sguardo lei lo abbassa e poi sorride diventa rossa i segni tipici di un amore che sboccia è timida Elena ma anche determinata a fidanzarsi con Michele perché lei quell'uomo lo vuole fortemente e lui è un ragazzo a cui piacciono le cose semplici o almeno così le sembra è già le cose semplici come il controllo assoluto sulla sua donna e sui suoi figli arrivando al punto di dire loro un giorno in auto mentre la moglie è scomparsa che lui ci ha messo 18 anni per raddrizzare Elena e i figli se non faranno quello che dice lui faranno la fine della madre li avverte e Michele la fine che ha fatto Elena la conosce bene visto che dopo averla assassinata la nascosta in un punto decisamente inaccessibile per far sì che di lei non restasse traccia chissà se si ricorda della dolcezza con cui lo guardava Elena sull'autobus quando pochi istanti dopo aver ricevuto la notizia che un corpo è stato trovato a circa 800 metri da casa sua chiede al collega come prima domanda se il corpo è in avanzato stato di decomposizione ma per ora torniamo a quell'autobus una moglie perfetta un giorno dopo l'altro una fermata dopo l'altra Michele e Elena iniziano ad aspettarsi a conoscersi lei gli fa compagnia nelle monotone tratte prestabilite lui si interessa a lei con tenerezza è molto carina Elena ha 19 anni gambe bellissime un sorriso smagliante Michele è un po più grande ha 24 anni e vuole sapere tutto di lei dove abita cosa fanno i suoi genitori sia fratelle sorelle per lui la famiglia è molto importante le dice e per lei quelle parole sono come musica poi si informa sulle idee di Elena sui suoi progetti per il futuro vuole sapere se una è una ragazza seria se potrebbe essere una brava moglie una buona madre le chiede tutto e lei ne è felice Michele si mostra premuroso e spesso le dà persino dei consigli perché lui la sa decisamente più lunga di Elena che ha bisogno di essere guidata indirizzata raddrizzata appunto il tempo passa i due si fidanzano ormai sono diventati inseparabili e quando lui viene trasferito lei comincia a prendere treni su treni per stare col suo amore ogni fine settimana ovunque lui vada lei lo segue e dopo un po si sposano il giorno del matrimonio Elena è raggiante nel suo abito bianco è semplice come lei anche Michele sorridente e sereno il lavoro e la famiglia sono capisaldi della sua educazione e lui si sta mostrando all'altezza la sua sposa è una brava ragazza carina docile obbediente non lo contraddice mai anzi sembra condividere pienamente le impostazioni che Michele vorrebbe dare alla loro famiglia i ruoli sono chiari lui dà gli ordini stabilisce le attività gestisce le risorse economiche ed Elena obbedisce sempre Elena desidera solo una vita modesta e devota vuole essere una donna una moglie una madre di cui tutti possano parlare bene non sembra esserci spazio peraltro nei suoi pensieri nei suoi progetti nei suoi valori soprattutto Elena vuole dei bambini decisamente la compagna perfetta per un uomo come Michele e lui certo non le permetterà di cambiare quella simbiosi asfitica come si rivelerà qualche anno dopo sembra ormai consolidata negli angusti confini di una rassicurante normalità poco tempo dopo nasce la prima figlia una bambina bellissima con gli occhi gli stessi boccoli scuri la stessa dolce determinazione della mamma dopo di lei arrivano due maschietti e poi un'altra bambina tutti bellissimi e buoni come la mamma tutti sotto il controllo del padre dopo anni di trasferimenti la famiglia Boninconti finalmente si stabilisce a motta frazione di costiglioli ed asti vicino ai genitori alla sorella di Elena che la aiutano con i bambini Elena sembra tirare un sospiro di sollievo non è più da sola e la vicinanza della famiglia rappresenta certamente un netto miglioramento della sua condizione iniziano ad affiorare i primi segni di stanchezza per quel matrimonio che ormai assomiglia sempre più a una gabbia insopportabile nel frattempo Michele ha cambiato lavoro è entrato nei vigili del fuoco e non c'è quasi mai spesso fa anche i turni di notte eppure è come se fosse sempre presente controlla tutto da disposizioni verifica che ogni cosa venga eseguita secondo i suoi ordini Elena è sempre la ragazza dolce che non lo contraddice mai e continua a obbedire lui le gestisce la vita e si lascia condurre ovunque anche dove non deve e non vuole neppure andare Michele di lei sa sempre tutto e non è certo tipo da incentivare la sfera delle relazioni della moglie che ha poche amiche e si fa vedere in giro di rado esce solo per accompagnare i figli a scuola al catechismo a fare qualche piccola spesa in casa non invita mai nessuno la sua giornata ruota intorno al menage familiare alla cura della casa all'orto e al cane ogni tanto qualche parola con la vicina la domenica a messa e poi a pranzo dei genitori i compiani dei figli e le feste comandate sono le uniche occasioni di svago è ancora giovane ma la sua vita è lontana anni luce da quella delle coetanee una vita ad altri tempi per una donna che non sembra chiedere altro almeno apparentemente una vita del tutto dedicata al marito alla casa e ai figli non c'è spazio per Elena non c'è mai stato da quando nella sua vita è entrato Michele amore o possesso Elena desiderava solo una vita tranquilla ma questo è troppo perfino per lei il controllo spietato di Michele non riguarda solo la moglie anche i figli subiscono lo stesso trattamento quando le scuole sono chiuse lui sospende anche l'assicurazione della macchina di Elena tanto dove deve andare mentre lui non c'è per molti anni Elena accetta quello strido di vita che probabilmente la fa sentire protetta al sicuro soprattutto dei sensi di colpa perché in fondo un po' ci crede alle critiche che Michele spesso le muove e teme di non essere la sposa perfetta come spesso accade in questi casi scambia gli ordini del marito per consigli gli interrogatori per dimostrazioni di interesse le manie di controllo e possesso per prove d'amore ma Michele non la ama non la ama più o forse molto più probabilmente non l'ha mai amata la possiede questo sì e poco a poco lei senza accorgersene a quella condizione si è abituata alla fine la gabbia non deve essere sembrata neppure tanto angusta forse non le pare neanche più una gabbia ma lo è e come una gabbia da cui non può più uscire come scoprirà il 24 gennaio 2014 il suo ultimo giorno di vita la costruzione di una famiglia così come l'aveva immaginata si rivela ora un grande inganno in quella famiglia in quella vita lei è solo una mamma devota e una moglie fedele ruoli a cui non può sottrarsi ruoli che può interpretare solo a patto di rinunciare alla sua parte più autentica i figli sono tutto per lei ma lei non è più nulla per se stessa i ragazzi stanno crescendo il nido prima o poi si svuoterà chissà quanto deve preoccuparla l'idea di trovarsi faccia a faccia con suo marito da sola quando non le resterà da interpretare altro che ruolo di moglie perfetta è cambiata così tanto nel tempo è stata una ragazza vivace allegra coraggiosa una che correva dietro agli autobus che non aveva paura di prendere treni da sola inseguire i propri desideri e ora che fine ha fatto quella Elena ora si sente come la sirinetta quella della favola triste una donna senza gambe incapace di camminare di prendere in mano la propria vita per giunta in balia di un uomo che non le permette di riprendersene con le gambe Michele ora è preso solo dal lavoro torna a casa stanco e non vuole problemi controlla ciò che è stato fatto e da disposizioni per l'indomani punto non c'è tempo per parlare o discutere tanto meno per le smangerie lo stile parsimonioso di Michele si è steso anche alla manifestazione dei sentimenti e delle emozioni quel poco che dà la moglie le deve bastare perché Michele non ha mai avuto la benché minima intenzione di mettere in discussione il suo potere e men che meno il modo in cui lo esercita su ogni membro della famiglia lui è fatto così prendere o lasciare o meglio prendere o morire seguendolo in ogni decisione in ogni spostamento lei crede di avergli dimostrato il suo amore incondizionato ma Michele sembra non bastare mai sua moglie non è mai abbastanza brava passiva docile e a Elena manca Elena ogni giorno di più le manca quella ragazza libera e indipendente capace di andare ovunque di riprendere le redini della propria vita è una mamma follemente innamorata dei propri figli una donna forte capace e paziente ma è può e vuole essere anche tante altre cose ha molte capacità e molti desideri e ha solo 37 anni e tutta la vita davanti una vita di cui essere finalmente protagonista ma Michele di abbandonare il palcoscenico non vuole proprio saperne il tentativo di controllo Michele percepisce che Elena sta cambiando ecco perché esaspera ancora di più il suo controllo su di lei sa bene di non essere in grado gestire una donna vivace e determinata da quella versione di sua moglie è letteralmente terrorizzato se iniziasse a pretendere i propri spazi tutto l'ordine meticoloso in cui lui ha stabilito con ostinazione per così tanti anni crollerebbe miseramente Elena deve restare al suo posto passiva immobile obbediente a qualunque costo come un pesce in un acquario divenuto ormai troppo stretto così Michele cerca di tenerla in un pugno riempendola di insicurezze la bombarda di stimoli negativi le dice che è brutta grassa stupida inadeguata glielo ripeto ossessivamente non perdo occasione per aggredire la sua autostima per trasformarla sempre più in una copia malconcia e sbiadita di se stessa e spera che Elena se ne convinca che abbracci quell'immagine distorta di sé di cui lui si è nutrito per anni Michele infatti conosce bene i punti deboli della moglie e sa come usarli per alimentare una vera e propria emorragia emotiva per svuotarla per dominarla per farla soffrire rendendola impotente impaurita fragile lo ha sempre fatto del resto nei 18 anni che ha impiegato a raddrizzarla ossia a renderla quella che lui vuole che sia a prescindere da ciò che è realmente ora bisogna solo rincarare un po' la dose mica può lasciare che sua moglie rovini tutti quegli sforzi parte avvantaggiato perché Elena è già di per sé una donna timida e insicura ma ci sono ancora alcuni tratti del suo carattere da scardinare che rappresentano agli occhi di Michele dei temibili punti di forza da annientare a ogni costo il sorriso fascinante è già scomparso da tempo dal volto di Elena ma ci sono ancora le sue splende gambe a Michele non interessa avere una moglie bella e sorridente per lui importante che sia obbediente e devota le gambe sono pericolose troppo belle troppo magre troppo lunghe troppo vistose Elena si tiene in forma a un fisico proporzionato non a cellulite ma fortunatamente per Michele le quattro gravidanze hanno lasciato qualche segno tra il ginocchio e il colpaccio sono comparse delle vene varicose lei se ne accorta ma non pensa che siano così importanti invece il marito generalmente disattente molto avaro di complimenti le ha notate e gliele ha fatte notare anzi non perdo occasione per manifestare tutta la propria strategica repulsione le fa credere di aver perso tutta la sua bellezza e la convince che l'unica soluzione sia infilarsi in una guaina forma di coda di pesce trasformarsi in una sirenetta incapace di camminare da sola e nascondersi per sempre e così la sua missione finalmente compiuta ora nessuno nemmeno lui degnerà più sua moglie di uno sguardo la resa invisibile inutile che Elena cerchi ancora di essere una donna seducente perché ormai è solo una mamma e una moglie con le vene varicose una che nessuno si sognerebbe mai di guardare corteggiare desiderare michele può tornare a dormire suoni tranquilli perché il suo regno è al sicuro o almeno così crede quando si dice che un uomo ha dei grandi valori come nel caso di michele spesso si tende a fare confusione perché un conto è avere una moralità un grande senso etico della socialità e un altro è avere uno spasmodico e incoercibile bisogno di controllo e potere famiglia e lavoro per michele non sono ciò che desidera per sentirsi realizzato ciò che ritiene utile a nobilitare un uomo bensì ciò di cui ha bisogno per colmare le proprie insicurezze davanti agli altri si sente a disagio per ne mente inadeguato ma Elena è il suo scudo il potere che eserce su di lei è il più efficace degli ansiolitici gli dà l'impressione di avere potere almeno su qualcuno perché Michele sa di quale sa di valere molto meno della moglie e non può perdonarglielo la timida riservata a Elena in apparenza condivide lo stesso bisogno di accettazione sociale spasmodicamente manifestato dal marito e per questo finora ha accettato i ruoli che sono stati cuciti addosso ma in realtà è molto più sicura di sé di quanto sia mai stato lui sa farsi portare senza bisogno di imporre la rotta sa essere bella affascinante senza bisogno di trucco vestiti costosi non sente bisogno di apparire di presenziare di imporsi perché lei non è come Michele non lo è mai stata in più i suoi quattro meravigliosi figli sono il suo biglietto da visita ideale e rappresentano la più evidente e concreta dimostrazione di quante cose si è in grado di fare e molto bene quei quattro ragazzi sono davvero straordinari e il merito è suo e così Elena inizia a capire che come è riuscita a essere una mamma straordinaria può anche fare qualunque altra cosa desideri quindi invece di tramutarsi una sirenetta incapace di camminare sulle proprie gambe Elena decida di affrontare il problema di mostrare le vene varicose al medico e farsi curare inizia ad andare in bicicletta percorrendo chilometri e chilometri senza bisogno di assicurazione lontano da quella grande casa silenziosa isolata con un acquario in cui lei che non è un pesce non riesce più a respirare a Michele la scelta non piace per niente dove se ne va sua moglie da sola in giro per le campagne per così tante ore questa domanda lo tortura costantemente così come non gli piace che la figlia più grande abbia ora bisogno di un computer collegato a internet ma anche gli insegnanti lo hanno criticato e lui non vuole che lo ritengono un padre antiquato e avaro l'opinione degli altri è fondamentale per lui e allora ecco il computer la connessione a internet ma se fuori mostra una certa apertura a casa Michele svela senza remore la propria avversione per quello che reputa uno strumento infernale internet è davvero un inquilino ingombrante per lui perché è difficile controllare ciò che fa Elena quando è saluta davanti allo schermo Michele odia in ugual misura la rete e la bicicletta più lui li teme li critica però più tempo Elena trascorre pedalando e navigando uno dopo l'altro la giovane mamma ritrova tutti i compagni di scuola le amiche fidanzatine di tanti anni prima ma soprattutto ritrova se stessa quella ragazzina con il sorriso aperto e la voglia di sentirsi viva dove non può arrivare con la bici arriva chattando online e piano piano si accorge che per quanto suo marito la disprezzi su facebook viene invece apprezzata ed è una scoperta entusiasmante sui social si sente considerata stimata e persino desiderata le conversazioni telematiche riempiono il silenzio di quella vita troppo modesta e ritirata nutrono la sua autostima e la sua fantasia le fanno formicolare le gambe ricordandole di essere una donna e non un pesce Elena è tornata se stessa non è più la sirenetta che non può camminare la trasformazione è in atto è ora di alzarsi e riprendere il cammino ma deve fare i conti col suo carceriere che si è accorto che qualcosa sta accadendo a sua moglie e non ha alcuna intenzione di nullare la presa anzi la morsa di angoscia e paura su di lei per Michele la situazione è palesemente fuori controllo ha provato a entrare nel profilo della moglie ha persino chiesto a un parente di tenerla dopo sui social si è finto un conoscente le ha chiesto l'amicizia per vedere se lei ci stava insomma ha messo in campo tutte le strategie tipiche di un maniaco del controllo di quelli pericolosi ma Elena sguscia via indossando per l'occasione quella coda di squame che lui stesso le ha insegnato a portare per così tanti anni sguscia via da Michele come da Tony da Paolo e da quell'altro signore che la tempesta di messaggi Damiano si diverte si ricorda della ragazzina intraprendente che voleva fuggire via almeno per qualche ora da una vita troppo piatta e controllata pedala e gira libera stavolta scegliendo lei tra gitte le fermate e su questo nuovo autobus l'autista non è certo suo marito ma per Michele Boninconti tutto ciò è inconcepibile è sempre stato lui a condurre e a gestire la moglie e la sua immagine agli occhi degli altri teme che la vedano in giro si vergogna di avere una moglie che su facebook parla con chi vuole pubblica foto sorridenti senza il suo permesso che scrive messaggi senza suo controllo glielo dice più volte cerca ancora una volta di raddrizzarla sa che anche lei è sensibile alle critiche altrui non vuole certo essere sulla bocca di tutti non a caso la paura della vittima di coprirsi di vergogna è una delle leve più potenti nelle mani dei manipolatori affettivi fai come ti dico lo faccio per il tuo bene perché la gente non sparga di te ma questa volta Elena non vuole ascoltare Michele non può accettare sua moglie deve smetterla di far vergognare e lui sa bene come impedirglielo il 24 gennaio 2014 alle 8 55 di mattina Michele Boninconti sembra fuori di sé in preda a un attacco feroce di angoscia ha lasciato la moglie da pochi minuti giusto il tempo di accompagnare i figli a scuola e già la DAP è scomparsa al punto di chiamare una vicina di casa per chiederle se sia da lei dato che come vuole mostrarle non si trova in cortile nemmeno nel bagagliario dell'auto che apre appositamente sotto il naso della donna per farle vedere che è vuoto Michele ne è certo sua moglie non tornerà più e caso strano sa anche che è fuggita completamente nuda come nuda verrà trovata ormai in avanzato stato di decomposizione otto mesi dopo nel vicino Rio Mersa ad appena 800 metri da casa poi Michele chiama un'altra vicina e infine tenta di contattare Elena sul cellulare cinque volte fino a quando non trova il suo telefonino allora contatta i parenti si precipita ai carabinieri portando con sé alcuni vestiti che dice di aver trovato ben piegati in giardino sia mai qualcuno pensi che la moglie possa scomparire lasciando abiti stropicciati in giro e un paio di occhiali da vista che Elena non usa da tempo ma Michele non la guarda più da anni e quindi non se ne è accorto nel frattempo anche rimesso in ordine la camera da letto solo quella per non fare troppo tardi non sta bene che i carabinieri trovino il letto disfatto finge persino di chiedere informazioni per l'Imu e passa di proposito sotto alcune telecamere sa già che Elena è andata via scalza completamente nuda e senza gli occhiali sa anche in che direzione è andata e sa anche che non tornerà ossia sa cose che avrebbe di certo saputo l'assassino di sua moglie e le sa immediatamente ossia pochi minuti dopo la scomparsa nonostante questo si affanno a cercare Elena in un'intervista di Chiara di pregare perché sia viva per mesi il pompiere di Costigliore partecipa alle ricerche tenendo ben lontani tutti da Riomersa e cercando di convincere anche i cani monicolari ad andare nella direzione opposta sostenendo che Elena deve essersi avviata da quella parte ma i cani e non solo loro fiutano odore di depistaggio se sono capaci di individuare persino dove passava Elena prima della scomparsa quando girava vestita in bicicletta figuriamoci se non riuscirebbero a seguire le tracce olfattive di una donna appena fuggita nuda e scalza per le campagne in pieno inverno ma il problema è che quelle tracce olfattive non ci sono in nessuna direzione perché Elena non è scappata con i suoi piedi non è andata da nessuna parte è stata uccisa da Michele e poi è stata nascosta nella zona più inaccessibile del canale di scolo vicino a casa il Riomersa appunto passano circa nove mesi il tempo che ci mette un bimbo a nascere è il 18 ottobre e alcuni operai stanno bonificando lo scolo del Riomersa erano oltre i 15 anni che nessuno lo puliva un posto perfetto per nascondere il più inconfessabile segreto di un marito omicida è questo che deve aver pensato Michele senza contare che da casa poteva continuare a controllare la zona il punto in cui viene trovato il corpo di Elena si vede pure da lì e non si tratta certo di una coincidenza il cadavere è disteso tra i rovi intriso di fango con nocciole tra le costole e il ventre saponificato prima ancora del ritrovamento Michele viene indagato per omicidio e occultamento di cadavere troppe le discrepanze le affermazioni anomali inquietanti e le contraddizioni lui sembra sapere perfettamente che fine abbia fatto la moglie e quando parla con i figli non riesce neppure a farne mistero sa che non tornerà mai più da loro il suo bisogno smodato di controllo l'esigenza di affermare il proprio dominio un profilo psicologico chiaramente narcisista e gli avvenimenti che hanno messo ancora più in luce i tratti della sua personalità lo hanno incastrato Michele Boninconti è stato il peggior nemico di se stesso la sua principale prova a carico la sua maniacale organizzazione ha sortito l'effetto contrario troppa rapidità di esecuzione troppo ordine in camera da letto troppo tempestive le telefonate troppo piegati gli abiti in cortile troppa fretta nello sbandierare i quattroventi la scomparsa della moglie perché Michele doveva apparire il marito perfetto anche in quel frangente ma ha esagerato un po' con la cura dei dettagli e poi troppo freddo perché Elena morisse distesa senza tentare di scaldarsi rannichiandosi troppi rovi nel canale perché si potesse infilare da sola troppa conoscenza del luogo e troppa esperienza da pompiere necessarie per un simile appuntamento il marito di Elena Cesta è stato condannato in via definitiva a trent'anni di reclusione senza sconti di pena per aver strangolato la moglie occultato il corpo e depistato le indagini ovviamente trent'anni sono il risultato della scelta di essere processato con l'età abbreviato in tribunale ha cercato di screditare Elena sostenendo che versasse in uno stato psicotico ma i figli lo hanno smentito ha fatto dichiarazioni improbabili sulle circostanze della sua scomparsa ma questo estremo tentativo di tenere in pugno la situazione non gli è riuscito con la sentenza del 17 maggio 2018 la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato agli avvocati difensori ritenendo inammissibili ancora prima che infondate le motivazioni adotte anche la consulenza di parti viene in gran parte censurata e considerata illogica Elena non è mai stata psicotica non aveva neanche l'emicrania era solo una donna e non era una sirenetta incapace di camminare come la voleva Michele ma la mania di controllo ha tradito il suo carnefice e stavolta l'ultima fermata per lui è stata la prigione nel carcere di Alghero Michele Bonincontri si è lavorato in economia e commercio lavora come assistente universitario per gli altri detenuti ma non ha saldato le spese processuali non ha ottemperato risarcimento per i parenti di Elena e non ha mai versato il mantenimento dovuto ai figli questo almeno è quello che ci risulta agli atti ancora diciamo all'epoca della pubblicazione di questo testo ma non mi pare che ci siano grosse novità almeno non ci risultano recentemente è stato dichiarato indegna a succedere e non potrà godere dell'eredità di Elena tra le mani non gli rimane altro che quella coda di scaglie che Elena non voleva più saperne di indossare che cosa ci insegna la storia di Elena Ceste gli stereotipi di questa storia sono molteplici la donna deve restare a casa occuparsi del merito dei figli e questo è lo stereotipo che emerge con forza dalla storia di Elena Ceste purtroppo è un'idea che hanno in testa entrambi i protagonisti di questa vicenda perché si tratta di una convinzione quanto mai trasversale che interessa sia uomini che donne di solito un modello assorbito in famiglia magari da madri che erano a loro volta dedite solo principalmente alla casa e non pensavano di poter avere alte aspirazioni e da padri che lo trovavano giusto o quantomeno naturale ancora una volta la donna si considera ed è considerata inferiore all'uomo non si vede e non viene vista tanto come un essere umano con i propri visioni desideri quanto come un automa totalmente devoto ai bisogni e ai desideri degli altri Michele sa fin dall'inizio di volere una moglie così è inizialmente è quello che anche Elena desidera e insegue con tutte le sue energie perché la fa sentire adeguata perché Elena è una persona che tende a rispondere esattamente a quello che la gente si aspetta che una donna faccia che sia a casa perché quello è il suo posto a fare la madre a cuodire i figli avverte questo stereotipo molto forte dentro di sé e anche Michele c'è là perciò è su questa strada che i due si incontrano finché Elena non si accorge che di quello stereotipo sta morendo perché ha confini troppo angusti che non riesce a sopportare sia Elena che Michele sentono forte il peso dell'opinione degli altri lei si preoccupa di essere una moglie e una madre perfetta lui non vuole che la moglie sia per lui motivo di vergogna in paese un meccanismo che è importante sottolineare perché opera in tutti gli stereotipi e non solo quelli di genere tutte le persone che agiscono in base a stereotipi avvertono una pressione sociale che impedisce loro di fare diversamente in quanto non vogliono rischiare di essere aditati in maniera negativa se non si adattano alle convenzioni comuni la potenza degli stereotipi sta proprio in questo nella pressione sociale esercitata dagli altri a loro volta adeguati a quegli stessi stereotipi che è un trarre all'idea che qualcuno li possa violare forse in quest'ottica Michele si sente in diritto di raddrizzare la moglie ogni volta che mostra di deviare dalle sue aspettative personali e da quelle sociali non a caso la paura di coprirsi di vergogna è una delle più importanti e potenti leve di manipolazione psicologica utilizzate dai manipolatori affettivi per dominare gli altri aderire a uno stereotipo dunque significa sentirsi parte di un gruppo sentirsi accettati da tutta in questa sociale cosa che per molti è fondamentale soprattutto per coloro che non riescono a vivere fuori da questo contenitore di accettazione generale il meccanismo di adesione allo stereotipo per poi scoprire che è troppo asfitico e volessere liberare è piuttosto comune stare inquadrati in un modello non è una scelta così pacifica come può sembrare c'è chi lo accetta con rassegnazione perché non pensa che oltre a quel modello si possono aprire altri scenari e c'è chi invece come Elena a un certo punto inizia a viverlo con tormento quando comprende di avere desideri bisogni validi quanto quelli altrui e che implorano di essere soddisfatti a quel punto però può subentrare la paura di contrapporsi alle aspettative del partner e del gruppo di appartenenza ma la triste fine di Elena dimostra che la paura e la cieca obbedienza non ci proteggeranno potranno solo peggiorare la situazione o quantomeno il malessere interiore molto meglio allora prendere il coraggio a due mani e scendere da quell'autobus che ci sta portando in una direzione che non vogliamo ma che altri hanno deciso per noi l'opinione della gente è importante per tutti inutile legarlo ma non è importante quanto la nostra su noi stessi e non deve orientare le nostre scelte i nostri desideri i nostri bisogni c'è però un altro stereotipo molto forte nella storia di Elena l'idea che la donna come creatura senza gambe ossia di una creatura che non sa cavarsela da sola senza il supporto di un uomo che ha bisogno di essere guidata assistita consigliata mantenuta economicamente e se necessario sì anche raddrizzata molti uomini hanno quest'immagine della donna e molte donne ci credono perché fin da bambina hanno iniziato a sentirsi dire queste sono cose da maschi ogni volta che tentavano di fare un'attività percepita come maschile o si interessavano per esempio di attualità di politica o di materie scientifiche come se le abilità manuali e cognitive conoscessero differenze di genere ma di questo parleremo sicuramente più avanti per altre storie cosa si è detto di Elena Michele a livello diciamo dei media sarà per l'atrocità del delitto sarà per la noia della pioggia di Costigliore fatto sta che la vicenda di Elena Cesta regge ancora a distanza di anni e sentenze il peso della cronaca fatta a Pettegolezzo della falsa notizia che vide allo scandalo della chiacchiera da bar di chi si improvvisa a dettere il trattamento dedicato dei media alla mamma di Costigliore è emblematico dell'attenzione che è stata riservata negli ultimi anni alle vittime di famicidio per l'invadenza con cui non si è tenuto conto della privacy di Elena per i Pettegolezzi senza fondamento che l'hanno trasformata da madre devota in una mangiatrice di uomini senza scrupoli per il punto di vista con cui troppo spesso è stata narrata la vicenda ossia quello di Michele uomo tradito e costretto a vergognarsi della moglie del resto Michele ha potuto raccontare la sua versione che lo ha fatto ampiamente in tv e sui giornali Elena invece è stata ridotta al silenzio il Pettegolezzi ha travolto con la sua violenza senza pietà quattro bambini e una mamma uccisa gettata nuda in un canale fatta passare per pazza e peccaminosa mentre Michele il povero assassino che la descriveva come psicotica e piena di inguardabili bene varicose rimane per alcuni sprovveduti il presunto innocente anche dopo la condanna definitiva della corte di Cassazione ci hanno sguazzato tutti in questa storia dai blog di Quart'Ordine fino alla più seguita trasmissione nazionale popolare con spettacolari ospitate di millantatori mitomani e grande dispendio di calugne e illazioni di vario genere anche recentemente per alcuni Elena Cester era una mamma troppo allegra per raccogliere tutti gli articoli e i video che hanno offeso la memoria di Elena Cester e la vita dei suoi figli non basterebbe un'enciclopedia e anche solo l'elenco dei titoli più significativi rischia di sembrare una triste raccolta di video amatoriali per uomini senza fantasia e soprattutto senza vergogna la giovane bella Elena con la sua vita umile semplice timida riservata dedita alla cura della casa dell'orto del cane delle ocche dei quattro figli schiava di un marito padrone persecutore proprietaria solo di un paio di occhiali e di una bicicletta diviene proprio ciò che mai avrebbe voluto essere per una sorta di gioco beffardo e crudele proprio lei così timorosa del giudizio e delle chiacchiere della gente diventa la protagonista non solo delle più crudeli maldicenze del Monferrato ma anche del più bieto bieco pettegolezzo di tutta Italia perché sono chiacchiere quelle che girano su di lei fantasie che raccontano di chat a luci rosse di improbabili gradimenti con altri padri di famiglia di incontri segreti flirt immaginari che non trovano alcun riscontro nella realtà i giornali si divertono a intervistare presunti amanti chi incontra Tony chi cerca Paolo chi si mette sulle tracce dell'amico di famiglia del collega di Michele di tutte queste persone si fanno i nomi ma non i cognomi si mettono le foto di Elena ma non quelle dei sedicenti corteggiatori perfino di Vito un presario pieno di debiti che tenta di aprire in tv milantando una corrispondenza con la vittima in realtà mai avvenuta non abbiamo altre informazioni fino a quando non viene condannato perché tutti anche i bugiardi hanno diritto alla tutela della propria privacy tutti tranne Elena evidentemente questo gioco al massacro viene denunciato persino dal presidente dell'ordine dei giornalisti Enzo Iacopino che presenta un formale esposto alla procura di Roma e Milano contro la conduttrice di una celebre trasmissione tv accusata di aver violato ripetutamente la privacy di Elena di tutta la famiglia Ceste Boninconti senza preoccuparsi del coinvolgimento di minori ma il danno è fatto nonostante la denuncia e la temporanea sospensione del programma per la cosiddetta opinione popolare Elena è ormai la giovane mamma allegra delle langhe quella che chattava con tutti che si sreva con i vecchi compagni di classe e flertava con il papà degli amichetti il più banale immaginario bigotto di paese si incarna nelle ipotetiche avventure della bella trentasettenne astigiana annoiata dal marito e dalla vita domestica c'è chi inventa incontri nelle cave chi riferisce ai complicati amplessi in cucina chi giura di aver visto un filmato in cui Elena e il suo amante di turno si scambiava le fusioni in un supermercato con la vicenda Ceste viene esaltato con l'intrigante e pruriginoso scenario di ripetuti tradimenti che tanto ecita il perbenismo uno strano del resto che tiratura potrebbe generare un semplice innocente corteggiamento extraconiugale esclusivamente virtuale troppo poco e allora giu valang di fesserie per condire di dettagli di tutto inventato una storia già fin troppo tragica ma la verità è che non vi è alcuna prova dei milantati tradimenti di Elena che con una probabilità rimanevano solo ingenui sbagli virtuali cui non ha mai fatto seguito nulla di concreto l'unica prova certa è che Elena è morta è stata uccisa e nascosta umiliata e data in passo alle perverse ma alle lingue nostrane poi altro scenario che spesso è stato evocato parlando di Elena è che il marito sia stato provocato e quindi l'abbia uccisa per questo qualunque fosse la vita sentimentale di Elena il punto è un altro il processo ha dimostrato che Michele ha una personalità delinquenziale di assoluto spessore cito testualmente dalle sentenze come è stata definita dall'inquirente non è un marito tradito che ha perso la testa è uno che mente spudoratamente che depista le indagini che minaccia e tenta di manipolare i suoi figli che ha un disturbo ossessivo compulsivo e una patologica esigenza di affermare il suo dominio insomma uno da cui scappare a gambe elevate alla prima occasione eppure a lui a differenza di Elena viene garantita sempre la massima tutela qualsiasi cosa dica il disturbato e violento buon incontri viene riportata come oro colato dai giornali persino dai consulenti di parte molti giornali forse a caccia del lancio sensazionalistico hanno per esempio riportato nel titolo le motivazioni dell'assassino scrivendo a caratteri cubitali che Elena era infedele e che andava raddrizzata è vero nella maggior parte dei casi le parole buoni incontri sono virgolettate e nell'articolo emerge l'assurdità del punto di vista ma quei titoli anche solo per un attimo legittimano una visione che ahimè in troppi credono ancora giusta o quantomeno giustificabile Elena tradiva Michele e lui non riuscirebbe a sopportarlo così ha studiato e messo in atto un piano articolato per togliere la vita e farne sparire il corpo la personalità delinquenziale di buoni incontri ripeto cito sempre virgolettato dunque diviene quasi un fattore collaterale e Elena che con il suo comportamento già dato per assodato poiché così racconta l'assassino quindi che motivo abbiamo di evitare di un bugiardo patologico manipolatore ma chissà mai l'ha provocato e reso pericoloso l'omicidio passionale e il delitto d'onore per alcune testate sembrano evidentemente ancora in vigore per questi organi di informazione tra virgolette Michele è un buon padre marito un serio lavoratore che a Elena ha dato tutto per essere ripagato con il disonore in fin dei conti Michele voleva solo esercitare il suo legittimo diritto di correzione l'antico ius corrigendi che in effetti esisteva per legge e dava al padre di famiglia il diritto di prendere provvedimenti anche violenti per riportare la moglie o i figli sulla buona strada però diciamo che sta roba non è più in corso ormai dal 1956 quindi insomma questi sono un po' gli elementi principali la figlia di Elena in una lettera dedicata alla mamma così scrive vorrei per un solo istante ritrovare il tuo calore nella magia di un abbraccio avvolgendomi nel profumo della tua pelle vorrei parlarti un solo istante per raccontarti il mio dolore vorrei ascoltarti un solo istante per consolare il mio cuore e assaporare attimi di infinito amore così scrive Elisa nella sua lettera Elena era la sua mamma una mamma doncissima che preparava torte una mamma che a lei manca ogni giorno una mamma che vorrebbe indietro per poterla nuovamente abbracciare e sentire il profumo perché ormai di Elena è rimasto solo questo a chi l'amava bene amici per oggi la nostra favola di terrore la nostra favola da incubo si conclude qui domani ne racconteremo un'altra stavolta ci occuperemo di Roberta Ragusa a presto